buongiorno a tutti voi cari amici ecco anche oggi vi presento questo luogo questa zona siamo proprio vicino al santuario della madonna missionaria quindi a tricesimo circa 400 500 metri dal nostro santuario c'è questa collina ea cui su cui sorge questo tempietto che è dedicato a tutti i caduti delle guerre particolare la grande guerra 114 17 seconda guerra mondiale fino al 45 ecco quindi questa è la collina di san pietro questo questo tempio questo tempio votivo è dedicato proprio a san pietro ecco sono proprio davanti alla facciata del tempio votivo dedicato come dicevo ai martiri per la patria ecco c'è un lungo elenco di nomi di soldati e di persone che sono state uccise quindi è giusto fare memoria particolare qui davanti si nota questo caporal maggiore manzutti antonio e qui sulla destra questa lapide dedicata al caporale della negra quinto e qui sulla parte sulla parete laterale questo questa prima dedica dedicato si questo tempietto a ricordo dei nostri caduti nella grande guerra fu presente sua maestà vittorio emanuele terzo re d'italia 5 ottobre 1914 ed ecco la lapide che ricorda i caduti della seconda guerra mondiale tricesimo e i suoi caduti civili 1940-1945 ed ecco riportate qui su questa grande pietra il ricordo dei caduti per vivere la pace ci sono le date delle due guerre mondiali e questa pietra è la base diciamo di una grande asta una lunga che l'alza bandiera ecco dove sventola la bandiera italiana ed ecco da qui si può vedere tutta la zona sottostante siamo proprio su una collina è stato anche pulito il prato portate le piante quindi molto bello e questo è il bellissimo viale d'ingresso circondato da questi cipressi che si innalzano verso il cielo e dopo il taglio dell'erba sono state posizionate anche queste panche per poter anche sedersi per poter gustare la brezza leggera di questa bellissima giornata ed ecco sul colle il tempietto che abbiamo visitato anche qui una panca pronta per chi desidera sedersi un istante magari per pensare per meditare lungo i secoli lungo la storia tutte le cose che sono accadute ed ecco un po da lontano contempliamo ancora il tempio ai caduti la chiesa dedicata a san pietro e poi tutta la zona che la circonda ed ecco questa immensa pianta secolare che si trova proprio all'inizio, all'entrata ed è giusto ricordare che questo è un luogo sacro ogni cittadino deve rispettarlo e deve farlo rispettare e mi sono spostato proprio all'entrata di questo colle, di questa zona appunto sacra per il ricordo di tutti i caduti delle guerre e allora in conclusione possiamo dire quella frase ripetuta dai papi nei nostri tempi mai più la guerra mai più la guerra lo diceva già Paolo VI l'ha ripetuto magari con altre parole Giovanni Paolo II lo sta ripetendo continuamente il nostro Papa Francesco che sta davvero pregando e invitando davvero a costruire la pace ecco allora anche noi come veri costruttori di pace vogliamo ripetere mai più la guerra perché non è la violenza che porta la pace la violenza provoca sempre altra violenza ecco preghiamo la Vergine Maria preghiamo gli Apostoli, San Pietro e tutti gli Apostoli che ci aiutino davvero che aiutino questo povero mondo a ritrovare la giustizia e la pace per tutti gli uomini per ogni persona che vive in questo nostro mondo ecco un cordiale saluto a tutti voi un augurio di un buon fine settimana di una buona domenica e una buona continuazione del mese di ottobre buona giornata a tutti